Veniamo bannati sì o no mettendo un tipo di cheat su questo server? Proviamo a fare un god bridge Non stai scherzando che non vi... no è vero No ragazzi non ci credo che non veni bannato What? Ragazzi ma stai rivedendo cosa sta succedendo in questa partita e non veni bannato? Questo server ha un anti cheat, non ha un anti cheat Per quale motivo scusate non veni bannato? Prima farò ad esempio in diagonale, droppiamo un attimo la roba Quindi non posso troppare, perché? Vabbè non la posso troppare Proviamo a fare ad esempio un diagonale Eh beh in diagonale non funziona perché... Questa roba è una roba assurda ragazzi Che letteralmente 50 cps facendo un bridge del genere tu non vieni bannato